E bella rega, eccoci tornati su Yoshi's World World Allora, 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 allora Ciao Romeo, fortezza delle bolle Oh Yoshi, 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 Yoshi Yoshi, 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 Yoshi Ok ragazzi, credo che sia la fortezza di tanta ragazzi, 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 ragazzi Non ho potuto portare, vabbè dai, non lo spiego Stavo dicendo che non so se porterò la serie di ZX e NX Allora, ZX e NX No, no, aspettate ragazzi, per vedere se mai c'è qualcosa Ma credo di no, eh ragazzi Non saprei se vado sul secondo canale di YouTube E che cavolo Non mollerà mai, mega Diego Boh, qualcuno mi chiederà, hai l'intenzione di aprire un secondo? Allora Per chi adesso si starà chiedendo, no? Mega Diego Tu hai l'intenzione di aprire un secondo canale di YouTube? Beh Non saprei proprio Però, ragazzi Il prossimo non farò una live Quindi se avete domani da farmi O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è O è Il trailer Di ZXNX Per i bambini Beh Io questa modalità Ho sempre impostato Fin da conno Ero bambina Quindi è un posto Vabbè dai Allora Io Io non mi 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 Ma credo Ma credo che Non sia Per i bambini Ma E tai Perché non so Se magari C'è stata qualche Parola Pesante Quindi Fammi sapere Se Hai visto Qualche Parolona Parolona Parolaccia Ok Ok La camera Che ti permette Praticamente Di fare I video Su ogni cosa Su Una roba Non so Una Un viaggio Tutto quello che volete Per esempio Non so Robe da Merda Ragazzi Inmerdato Non so La stessa cosa Un po' Mi lascia Un po' Mi lascia Un po' La bocca Cioè Mi lascia un po' Quello strano Ragazzi Per me sta qui La seconda Boss Di Tantale Ragazzi Ci scommetto Ci scommetto Io ci scommetto Perché Dopo Otodogo Fuoco Facile Ci dovrebbe Essere Una Seconda Boss Fight Di Tantale Quindi Se non erro È questa Ma L'ho preso Un gomito Tagli Stasera Ragazzi Pognerà Fino Al 26 Settembre Dai Però Ma Che Cavolo È possibile Che ogni volta Che Provo A prendere Un gomito Mi farò Un barin Giù Allora Io Ragazzi Adesso Non lo so Non so Come Organizzare La serie Di Echo Echo Of Wisdom Perché Ho sbagliato La pronuncia Perché The Legend of Zelda Vabbè No È giusto La pronuncia Perché La serie Di The Legend of Zelda Echo Of Wisdom Ragazzi Dovrebbe uscire Esattamente Proprio Un giorno In cui Termino Il mio Venti Non vorrei Dire Perché Sennò Vi lascio Un po' di Pugnano Un po' di Lasciano Voi Dai Mia Siamo arrivati Alla boss fight Alla boss fight Fight Ora Fare fuori Gli Snitch Mangoglio Ho Detto Fac Credo Che Carmage Ma Svi Tutti Il Mido Ma Svi Mido Oh Va Oh Va Camagina non c'erano più il secondo Nanananana che me ne è f**to Scusi in ogni lingua del mondo No, 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 no Cade, equilibrio cade Equilibrio cade Ma che sono sul sedere All'antalpona Antalpona Antalpona Figurati non è una bella cosona Non riesco a stare in equilibrio Cade Yeah Yeah Pampam 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 Pam para Pam para Pam para treat pam para DEVI NO STARE INEQUILIBRI Oh, maledetetatam, maledetet CTUni TAN Chiangy boogi charabuce 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 Oh 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 dai dai fai fai li snitch Ok il boss è completato Hai ritenuto una nuova spiglia del potere Assalto ai nidi S'officialli Gia Luigi Buffon S'officioccoli Gli soffici si soppranti